Dino Campana è stato definito l'unico autentico poeta maledetto italiano. Effettivamente la sua biografia fu una biografia molto particolare. Era un uomo che soffriva fin da bambino di nevrosi, fu internato in manicomio in diverse occasioni e morì in manicomio. Condusse una vita anche fatta di vagabondaggi solitari che lo portarono in giro per l'Europa e anche nel Sud America. Quindi insomma è una biografia sicuramente non convenzionale. Nasce nel 1885 a Marradi. Marradi è una piccola cittadina presso Faenza. All'età di 5 anni cominciano i suoi squilibri mentali. Nonostante questo nel 1903 si iscrive all'Università di Bologna per studiare chimica. Sempre nello stesso anno però abbandona gli studi per viaggiare in Ucraina facendo vari lavori come il fuochista e il venditore ambulante. L'anno successivo ritorna e riprende gli studi universitari di chimica. Viaggia comunque molto. Nel 1906 fu a Genova, dove poi tornerà anche in futuro molto spesso, fu a Firenze, fu in Svizzera, fu in Francia. Fu anche rinchiuso nel manicomio di Imola. venne rinchiuso proprio su richiesta del padre. E sempre su richiesta del padre, poi però viene dimesso, nel senso che il padre decide di assumersi la responsabilità del figlio malato. E riprende anche gli studi. Ma il suo desiderio di viaggiare è molto forte. E nel 1908 viaggia in Argentina e in Uruguay. L'anno successivo ritorna e viene nuovamente rinchiuso, anche se per brevi periodi, in manicomio. Però sono periodi brevi ma molto numerosi. Insomma, molto spesso viene internato. Nel 1911 visita diverse volte Genova, soggiorna diverse volte a Genova, fino al 1913. E tra l'altro viene anche arrestato alcune volte, proprio perché viveva un po' come un vagabondo e questo era considerato, era illegale, insomma, il vagabondaggio. Ricordo questi viaggi nella città Ligure perché nella sua opera abbiamo moltissime poesie o anche delle prose d'arte che parlano di questa città. Quindi è uno dei luoghi in cui, insomma, lui ambienta le sue poesie, le sue immaginazioni. Nel 1913 ha terminato una prima versione dei suoi canti orfici, della sua opera, consegna il manoscritto a Papini e a Soffici, che sono due scrittori e poeti che in qualche modo orbitano attorno ai futuristi, ed è l'unica copia di cui dispone. Il problema è che questo manoscritto viene perduto e lui stesso dovrà riscriverlo a memoria e quindi scrive nuovamente tutta l'opera basandosi sul ricordo che ne aveva. In questo periodo frequenta anche i futuristi, frequenta la rivista La Cerba, però è sempre un poeta un po' isolato, nel senso che comunque non possiamo catalogarlo all'interno di un gruppo. Abbiamo detto, come poi adesso vedremo nella poetica, lo facciamo in grosso modo orbitare, facciamo in qualche modo rientrare tra i vociani, però è un poeta molto originale, insomma, che è difficile catalogare con un'etichetta. Nel 1916 incontra Sibilla Aleramo, è una poetessa e con lei ha una relazione piuttosto burrascosa. Qualche anno fa è uscito anche un film su Dino Campana, e buona parte del film raccontava questa vicenda sentimentale. Nel 1918 però viene definitivamente internato nel manicomio di Castelpulci a Firenze, e non vi uscirà più. Infatti morirà poi nel 1932 nel manicomio a causa di una setticemia. La poetica di Dino Campana. Allora, ha molti caratteri propri della poesia vocciana. Ad esempio, anche per lui la poesia è grido, urlo. C'è un forte espressionismo, sia per quanto riguarda le immagini, sia per quanto riguarda lo stile. Ad esempio troviamo in molte poesie di Campana una sintassi tesa, una certa irregolarità delle forme, della sintassi, immagini forti. Può rientrare in questo aspetto anche il ricorso ad analogie, che lui utilizza molto, così come fa ricorso ad accostamenti alogici, molto soggettivi. E infatti possiamo definire la sua poesia una poesia estremamente soggettiva. E c'è anche quell'autobiografismo che abbiamo visto caratterizzare la poesia dei vociani. Ricordiamo anche che ha scritto prose d'arte, ne ha scritte molte prose d'arte, cioè nei canti orfici ci sono moltissimi testi in prosa. E anche questa era una modalità che i poeti dell'epoca, ma in particolare anche i propri poeti vociani, utilizzavano. Però non si ferma qui, perché la sua poesia è anche qualcosa di più. È sicuramente una poesia originale e con caratteristiche proprie. Innanzitutto, come abbiamo detto, è un autentico poeta maledetto. E questo chiaramente lo distingue dai poeti crepuscolari, anche dai poeti vociani, anche come atteggiamento nei confronti della vita, per il modo di vivere, insomma. La sua è una poesia che possiamo definire onirica. Meglio definirla orfica, nel senso che lui stesso intitola Canti orfici la sua opera. Cioè, cosa vuol dire? È quasi una poesia quasi mistica, misterica. La poesia, effettivamente, la poesia di Dino Campana è sogno, è viaggio. È un viaggio che spesso assume atmosfere immaginarie e sembra un viaggio di fantasia. Non lo è, nel senso che, come abbiamo detto, lui effettivamente vive gran parte della vita vagabondando e viaggiando. quindi sono viaggi che lui ha compiuto, però vengono reinterpretati in maniera onirica, in atmosfere che spesso ci ricordano il sogno e, appunto, la fantasia. Infatti, per questo possiamo definire la sua poesia sogno, è una poesia marcatamente onirica. Direi ancora qualcosa sul titolo, Canti orfici. Beh, orfico, l'aggettivo orfico ci ricorda l'orfismo. Equivale, quindi, la sua poesia a una sorta di misticismo lirico. La poesia è pratica misterica. La poesia di Campana è viaggio nell'inconscio. Sicuramente possiamo anche leggerla in questo modo. Ma c'è anche un altro aspetto molto interessante. È ricerca della bellezza. Ma questa bellezza non sempre si manifesta e si riesce a raggiungere. E quando essa si manifesta, lo fa per lo più attraverso la folgorazione, l'illuminazione improvvisa. è una cosa che ci ricorda. Grazie.